Allora siamo sempre ad Arbissea, mi ha un po' di Gamoa? Lo conosci? Forse sì, forse no. È il famosissimo Nico Pescetto, gestore del campo scotto, campo da calcetto, bambini e tutti quanti andiamo lì a giocare. Ce l'ho fatto io, non il sindaco, l'ho fatto io. Bravo Nico. Che sei Giaccio, che sei Giaccio che l'ha fatto lì, ha fatto quello campo. Allora, due domande, due domande. Te l'ho visto, ci sono tanti dalla spiaggia un po' negro, ma non un po' su. Negro perché, almeno su, le vengono anche un sistema da non piggiarci su. Mi ha detto, lo deve prendere in un terrazzo oppure in un giardino. Mi ha detto, sì, c'è la vila a tre piani là dietro, va capigiamolo lì e sono apporto. E vengo qui a rompermi le palle qui in riva, ma qua le vila, è su, ha detto, sì. Ma ti ha detto anche bene, a te ha detto anche bene. Sì, mi ha detto anche bene, sono fortunato. Sono fortunato. E facciamo pesugare il pallone però, ne manca un campo. Poi me levo qua cos'altro. Poi, ommè, ci mandiamo a fare il bagno, ma se cacciamo il bagno, ma se cacciamo il bagno, ma tutto il giorno, ma. E mi gioca niente, mi gioca niente, a meno che levo, vero. Nico, bocca al lupo. Anche voi, grazie di tutto, arrivederci. Ciao.